Shake it up, shake up the happiness, wake it up, wake up the happiness, come on yo, it's Christmas time. Una parola che lasciamo nel 2014 e una che invece portiamo nel 2015. Abbiamo abbandonato la lentezza nel 2014 e nel 2015 continuiamo però sulla strada del cambiamento. Speranza e entusiasmo per il 2015, via la paura. Fiducia è la parola più importante che dobbiamo avere per il 2015. Nel 2014 lasciamo la parte peggiore della crisi, quella che ha tagliato occupazione, lavoro. Io spero che portiamo nel 2015 speranza. Una parola per il 2015 è ripresa. Portiamo nel 2015 la speranza, dobbiamo solo ciascuno di noi rimboccarsi le maniche e darsi un po' da fare e ce la faremo. Oddio che domanda difficile. Allora quella che lasciamo è rassegnazione, ha la risposta giusto? E quella che ci portiamo è speranza che avranno detto tutti, non il capogruppo del PD, speranza che avranno detto tutti. So di non essere molto originale ma penso che veramente l'anno nuovo è un anno che ci deve traghettare nel futuro. E quindi è un anno di grande speranza e il Partito Democratico deve servire a questo. Un augurio per il Partito Democratico? Beh per il PD il 2014 è stato un anno pazzesco dal punto di vista dei risultati. Bissarlo sarebbe impossibile, abbiamo praticamente vinto ovunque e quindi già semplicemente ripetere sarebbe un trionfo. Però io invito il nostro partito, la nostra comunità a non accontentarsi ma a cercare di fare meglio. È questo che deve fare il PD, cercare di fare meglio e non accontentarsi mai.